poi ai vincitori gli possiamo dare come primo premio queste quattro mollette ma anche volendo un piatto di riso basmati insalata di riso e come questo è il secondo premio e il terzo premio è una coccia di emmental iscriviti anche tu al premio letterario festival la cosa è l'ombra della cosa poi se vinci i premi li abbiamo detti se perdi comunque hai partecipato a un premio festival prestigioso la cosa e l'ombra della cosa partecipa non è gratuito però se partecipi puoi dire ho partecipato ho partecipato al premio festival la cosa e l'ombra della cosa